Travena 2016, fare conti con l'ambiente, si è svolto il lab meeting sulla gestione delle risorse idriche, siamo insieme a Paola Matino di Luel che ci spiega quali sono i principali argomenti trattati. Anche quest'anno abbiamo avuto il piacere di affrontare i temi della gestione, del trattamento delle acque, quindi del tema della fugnatura e della depurazione. Quest'anno peraltro questo evento si inquadra complessivamente nel roadshow di H2O, quindi tutte le tappe che portano poi alla fiera internazionale che ci sarà poi a Bologna a ottobre. I temi sono tanti, si è parlato dell'aspetto regolatorio, si è parlato dell'importanza degli investimenti, si è parlato di nuove tecnologie e di innovazione nel settore coinvolgendo un po' tutti gli interlocutori su questo tema, quindi ingegneri progettisti, l'università, società specializzate nelle tecnologie che hanno fornito il loro punto di vista, la loro visione innovativa del settore, il regolatore, in particolare il regolatore locale, in questo caso a Tersir, e infine anche degli esperti di settore che hanno fornito un po' un inquadramento, un punto di vista. La volontà era proprio di creare un dialogo e ci auguriamo che questo dialogo continui sia nelle prossime edizioni, sia nei prossimi appuntamenti su questi argomenti.